Ciao a tutti ragazzi, sono Berni. Oggi siamo qua nel nuovissimo video di Brawl Stars. Il mio primissimo video di Brawl Stars. Da soli. Volevo fare un po' di partite con voi. E niente, volevo portarvi anche Brawl Stars. Volevo anche portarvi Brawl Stars perché mi piace un po'. Un po' ci gioco, ma neanche tanto però. Ma nel 1927, una volta ero tipo 1950, solo io e un mio amico. Ecco infatti, 1961. Solo che facevo le due con un mio amico e siamo scalati. Che erano veramente forti insieme. Poi magari vi porterò il video con lui. Va bene. Io vediamo chi provo a scegliere. Allora. Sono indeciso. Ci prendiamo un Frank. Utiliamo. Guardiamo le nuove modalità. Ok. Sopravvivenza in duo. Ok. Magari... Dopo ci apriamo anche la cassetta. Che tra un po' ce l'aviamo. Va bene. Frank. No, ragazzi. Ho sbagliato. Ho messo in duo. Va bene. Questa qua mi sa che la taglio. Anzi, va bene. La lascio. Cambiate idea. Vabbè, raga. Sono morto. Comunque se sto in silenzio vuol dire che sono concentrato. Però vabbè, abbiamo proprio un trofeo. Buono, buono. Adesso ne facciamo subito un altro in solo. E ci giochiamo in partita. Ok, ragazzi. Ma una scegli vicino. Quindi direi di andarcene via. Qua c'è un carissimo Beryl. C'è un nostro carissimo Beryl. Va bene. Aspetta che abbassero un po' il volume. Che secondo me è un po' alto. Vabbè, che a domani all'editing lo abbasserò. Ho questo Frank. Ok, è morto. Ok, ne ho ammazzato i due. Perfetto. Cioè, ha diventato uno. Con quello che ho chiesto i primi o due. Vabbè, credo. Vabbè, che sì. Va bene. Aveva la super, non mi ero accorto. Comunque più 4 c'è fei. Buono, buono. Comunque vorrei arrivare a un casino a 2.000 trofei. E datemi i consigli per migliorare sempre su questo gioco. Come mi date consigli su Fortnite. Mi dovete dare consigli anche qua. A proposito di Fortnite mi dovete dire che giochi volete che porto. C'è la mobile che da PS4. Da PS4 per adesso preferisco giochi gratis prima di comprarne altri. Magari può essere che potete anche scegliere GTA, che GTA ce l'ho. Comunque, vabbè, consigliatemi, consigliatemi comunque dei giochi. E se volete farmi delle domande, scrivetemi nei commenti. Ok. Mi sa che l'ho. Ok, quella lì. Che fail. Ok. Va bene. E niente. Va bene. Adesso mi sa che c'è il mio brawler. Spero che il video sta durando poco. Beh, quando mai poi con i tagli magari. Vabbè, adesso ci prendiamo un 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 pocio. Cerciamo altre due partitelle. E buon me. Se volete un box opening gratis. Ragazzi, la partita di prima la taglio perché sono morto subito. Mi cambio il brawler perché questo qua non so capace di utilizzarlo. Metto questo qua. Che voglio provare a portarli tutti a grado 10. Poi tutti a grado 15. Dopo tutti a grado 20. Io vi consiglio di farli. Di farlo. Cioè, di fare sta roba. Perché tipo, visto che io ce l'ho a grado 8 questo qua. Io perdo meno trofei con questo qua. E quindi, cioè. Quindi lo posso portare su e guadagnare trofei. E così via. Poi adesso ho lasciato uno white. Ok, mi sa che dopo utilizzerò Jesse. Ah, dai, però. Vabbè, è solo Jesse. Vabbè, comunque più tre trofei. Buono. L'ultima partita e... Bomba. Ci troviamo in partita. Ok, ragazzi. Sembra che ero... Io quello lì ero prima. E poi qua, di qua c'era una Jesse. Cioè, io prima ero così. Ok, cioè Jesse è fortissima, raga. Io ve la consiglio. Perché toglie... Cioè, toglie tantissimo. E poi io vi volevo portare una combo con... Me e un mio amico. Con il mio moderatore. Mi hanno chiuso, raga. Vabbè. Eh, volevo portarvi un video su Brawl Stars con il mio moderatore. Eh... E... Come si dice? Eh, portarvi una serie. Le combo di Brawl Stars. Che già... Io... Eh... Eh... Il mio moderatore, Dinjon. Eh... Ce l'abbiamo già in mente. Ve ne dico solo una per adesso. Jesse e Penny. Provatele e ditemi... Se... Se vi piace o no. Comunque vi porterò una serie. A me ragazzuoli. Ci apriamo questa cassa e... Niente. Speriamo di trovare qualcosa di bello. Sentate a monete, buono. Sette di Pam, buono. E quindici di Brock. Con questo vi faccio vedere che... Brawl e ero io. Oh, vabbè. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock e il primo. Bombardino, Pocho, Stecca, Barry, Penny, Pam e Frank. Mi mancano queste qua. Io voglio... Vorrei tanto un... Un... Leggendario. Mi piacerebbe anche trovare lui. Eugenio. Che mi piace molto. E niente. Io... Vi saluto. Però prima di salutarvi... Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi al canale. Attivare la campanellina. E condividere il video. Niente. Io vi saluto. Ciao. Ciao. Ciao.